Vorrei sapere qual è la tua opinione sull'espressione del Presidente che ha detto che il pareggio con la Sapidoria era stato colpa tua perché avevi fatto una fesseria a cambiare due giocatori che stavano andando bene, quindi hai un po' sconfussolato quelli che erano gli equilibri e che non reggeva il discorso dei crampi e poi invece ti ha fatto i complimenti perché ci ha fatto bene a mandare in tribuna tra i coschi deve imparare a fare il giocatore, che significa anche questo? La prima cosa è che il Presidente ha il diritto di parlare e di dire quello che pensa e poi io le ho detto e le ho ridetto ancora dei crampi che poi tra l'altro si è visto che ha chiesto il cambio balo e quindi questo è così, poi sicuramente quando abbiamo parlato subito dopo la partita lui non ci credeva ma va bene perché poi vi abbiamo detto che era più tranquillo il giorno dopo e lo ha capito su tra i coschi io penso che noi dobbiamo, io dico a loro, vi dico quello che dico a loro noi lì davanti per sostenere i tre davanti noi dobbiamo pedalare e correre tanto quindi quei tre davanti devono essere animali quindi mi faccia finire quindi bisogna essere animali e io ho guardato il campo e ho portato chi mi ha dimostrato che in quella partita era pronto per fare una partita del genere per quello io ho detto è stata una scelta tecnica e nel momento in cui io vedo uno meglio di lui come in questo caso c'è stato il ragazzo della primavera che l'ho visto meglio dal giovedì ho portato il ragazzo